Sempre qui sulla Fifth Avenue vi è la Cattedrale di San Patrizio. La Cattedrale di San Patrizio è un luogo importantissimo per i cattolici. Qui c'è la sede Bescovile ed è un luogo d'incontro per tutti gli italiani cattolici, qui a New York. Ci troviamo all'interno della Cattedrale di San Patrizio. Prima del Columbus Day viene effettuata una cerimonia alla presenza di tante personalità di New York e tante personalità italiane. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS